Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video. Oggi ho deciso di portarvi un video di questa estate dove io e Fred andiamo a bus fishing in giro per i laghetti. Niente, vi lasciamo al video. Buon appetito. Buon appetito. Sto scherzando, che se le ho di sentire il tetto. Ma sì, lo so. Prima te la mi ha persa, quella è la mia. Figa. Bastardo, no, bravo. Che cazzo è? Donna! Robi, che cazzo è? Che cazzo è? Adesso rilasciamo sto bel bestione. Staccato una codina, era tutto il freaky flip. Cosa che succede? Ciao! Zio Pig, che va alla rana. Preso con un freaky flip, terminale 0.28. Ce l'ho. Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo? Che cazzo è? Che cazzo è? Ciao Sabu è grosso Madon Ragazzi il video finisce qua Speriamo vi sia piaciuto Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti Ciao